Allora, facciamo questo video durante il viaggio di ritorno a casa Lo sto facendo con un supporto d'auto, quindi vibrerà un bel po' e si sentirà un po' di casino, ma non fa niente Allora, sono di ritorno dall'inaugurazione dello store, del nuovo store di Euroma 2 Devo dire che non avevo mai fatto, cioè non ero mai stato a un'inaugurazione, solo dei one, del lancio dei prodotti Come evento è un evento carino, niente a che vedere con ovviamente il lancio Perché per il lancio magari uno si fa la nottata, perché sa che c'è magari più gente, più appassionati Qui è più stata una corsa alla maglietta Noi siamo arrivati verso le nove e c'erano circa 50-60 persone Quindi la fila era discreta Poi piano piano la fila si è cominciata ad allungare Fino ad arrivare forse a un centinaio, 100-150 persone, 200, non lo so Siamo stati dentro lo store per un quarto d'ora, poi siamo usciti fuori Abbiamo fatto due chiacchiere con gli amici, Luca, Flavio, il navigatore che rompe Sì, ok, tra poco riparlerà Daniele, eccetera eccetera Adesso dimenticherò qualcuno Jimmy, Michele, Andrea Dopo aver fatto questa chiacchierata, 20-30 minuti, siamo ripassati davanti allo store E la fila si era allungata di parecchio Quindi la gente c'è stata Per quanto riguarda l'Apple Store è enorme Veramente grande Dopo la mignotta Allora, lo store è enorme Più grande di quello di Roma Est Più grande di quello di Porta di Roma Veramente molto molto bello e spazioso Poi alla fine è un Apple Store Quindi non è che cambi molto dagli altri Devo dire che Mi è piaciuto molto Però Roma Est rimane Roma Est Per me E niente Per quanto riguarda i dipendenti Parecchi erano stati prestati dallo store di Roma Est Ed erano veramente un boato Tantissime persone Infatti su Pine trovate il video del Sia del corteo di dipendenti dell'Apple Store Che danno il 5 a tutta la fila Tra 800 metri No, non lo rifaccio il video Quindi non lo rifaccio togliendo il navigatore Continuo a tenerlo Ve lo sentite E praticamente C'è anche un altro video Quando io entro dentro E vedete com'è l'atmosfera Che è la classica Comunque erano veramente tanti La maglietta è questa Ne abbiamo prese due Essendo in due E... Niente Non ho granché da dire Su questo Su questo evento Se non nel fatto che probabilmente Non lo rifarò Perché non è Non ha molto senso Non ha molto senso andare a un'inaugurazione del genere Se non per la maglietta Perché poi alla fine Quando fai un Un lancio di un prodotto Entri dentro Con uno scopo Forse è lì che dovrebbero regalare qualcosa Ma all'inaugurazione Vabbè Comunque Abbiamo due magliette Se una la vendiamo a 70 euro Se qualcuno la vuole Andiamo volentieri E se a qualcuno interessa un iPhone 5 32 giga Facciamo pure il mega spam Che mi contatti in privato Comunque sia Ma Non so se andrò al prossimo Credo di no Anche perché a Roma Penso che abbiamo finito Con gli Apple Store Visto che ce ne sono ben tre E Niente Poi ovviamente saremo Al lancio Di questo Ipotetico E fantomatico iPhone 5S O iPhone 5C O iPhone 5SC Cioè sto cazzo By Busillo E Michiotti Niente Quindi è tutto Ci vediamo al prossimo video Che sarà Boh Ciao